signori a buonasera rita a su tv luna canale 14 del digitale del resto e stasera abbiamo il piacere di avere il maestro franco cipriani tutti stavano una compagnielle tanto tempo fa pronto vorrei fare una dedica dicete a chi ha volete dedicare a una persona cara ad un amico scegliete voi la canzone che ci sta con tanto amore questa canzone da già dedicare con tanto amore questa canzone torna a t'abbraccia che fa su piamba basse stegno le ricorde quando ricordo devono c'è tutti i suoi che fa che il piamba basse chissà non sei felice avrei trovato l'amore si mai l'amore ha un cadernato chistico chissà con tanto amore che sta canzone da già dedicare con tanto amore con tanto amore questa canzone è torna a t'abbraccia l'amore l'amore che fa che fa su piamba basse stegno le ricorde quando ricordo devono c'è tutti i suoi che fa che fa che il piamba basse chissà non sei felice o le trovate l'amore si mai l'amore ha un cadernato chistico chissà chissà con tanto amore che sta canzone da già dedicare con tanto amore questa canzone è torna a t'abbraccia a t'abbraccia che